L'impressione è che se si incomincia e si parla, si vuole già sospendere i lavori per delle quisquiglie, incominciamo male. Se si dovesse stare a parlare soltanto del senso degli angeli o del fatto che una persona non è leggibile, quando non abbiamo ancora prove certe del fatto che sia colpevole o no, secondo me è del tutto inutile. Io ho chiesto la sospensione per Bonvicini perché aspettiamo che il segretario generale abbia più dati da portare alla questione e per rispetto nei confronti della cittadinanza che comunque paga con le proprietà se queste sedute di consiglia abbiamo chiesto di andare avanti. Vediamo poi i prossimi ordini del giorno e delle prossime settimane. Sul fatto che lo stesso Bonvicini fosse astente? Ho fatto lo stesso Bonvicini fosse astente, è una questione di sensibilità del singolo. Io ero presente, altri no, non vado certo a mettere in bocca parole a persone che non erano presenti. Io parlo per me e gli altri parleranno per loro. Io ero presente, ero presente, è una foreignatoria.